Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di viaggi. Qualcuno diceva la vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte. Come dargli torto? E serve sempre un compagno di viaggio e ne abbiamo uno davvero fedelissimo qui nel nostro mondo Tessiland. Capiente, versatile, dal design innovativo, compagno di viaggio, ma anche elegante, pratico e funzionale. Quale migliore di uno zainetto? Quest'oggi vi mostriamo con cosa potete realizzarlo. Partiamo dalle basi, nel vero senso della parola, vale a dire dal set travel. Come diciamo sempre analizziamolo nel dettaglio. Partiamo dallo schienale, eccolo qui interamente in ecopelle a forma di trapezio. Nel dettaglio la parte superiore misura 21 cm mentre quella inferiore 25 e l'altezza totale invece di 27 cm. I fori che vedete qui al lato invece sono di circa 5 mm. Parliamo invece degli spallacci adesso. Eccolo qui, qui ne vedete solo una parte, ma pensate che sono allungabili fino a ben 80 cm con ovviamente la pratica regola tracolla. Parliamo invece adesso di vaschetta. Ebbene sì, il set travel alla vaschetta inferiore che misura 25 cm di lunghezza per una larghezza di 11 cm ed un'altezza invece di 5 cm. E veniamo invece adesso alla patta che misura 23 cm circa con una chiusura a pulsante. Eccola qui, la vedete. Con patta femmina cucibile delle dimensioni di 5 per 6 cm con i fori che hanno un diametro di circa 4 mm. Questo set travel ha una rifinitura davvero pazzesca, infatti è completamente rivestita a doppio strato in ecopelli, sia dall'esterno che dall'interno ed è un'idea interamente a marchio Tessiland. Il set travel, disponibile in ben 5 varianti di colore. Insomma, la scelta ideale per chi cerca qualità, praticità ed innovazione. Ma con cosa possiamo completare questo zainetto? I filati presenti sul nostro catalogo sono davvero tantissimi. Ce ne sono tanti di diversi materiali e spessori, ognuno adatto per uno stile ben preciso. Ternes o raffi naturale, ma anche ritorta, per uno stile shall be chic. Thai skinny, Thai sublime, super Thai e pandoro queen, per uno stile decisamente più moderno. Ma accontentiamo chi ha anche dei gusti un po' più giovanili e sbarazzini, con la lycra, che sia lycra print, che sia lycra in tinta unita, o perché no anche la lycra lux. Insomma, questo set travel sicuramente sarà il compagno perfetto per le vostre avventure. Che siate pratiche o meno del land made, quindi mettetevi all'opera. Ma prima iscrivetevi sul nostro canale YouTube ed attivate la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!